di Cassiano il Romano L'amore per il denaro La terza battaglia è contro lo spirito dell'amore per il denaro, spirito che è strano alla natura e che, nel monaco, ha origine dalla mancanza di fede. Infatti gli impulsi delle altre passioni, dell'ira, cioè, e della concupiscenza, sembrano partire dal corpo stesso, e in qualche modo il loro principio è insito nella natura, perciò sono vinti soltanto dopo molto tempo. Invece il male dell'amore per il denaro sopravviene dall'esterno e può essere eliminato più facilmente se si è solleciti e attenti. Ma se lo si trascura, questo si rivela una passione più letale delle altre, è difficile a rimuoversi, essa è infatti radice di tutti i mali, come dice l'Apostolo. Primo Timoteo 6,10 Osserviamo come i moti naturali del corpo si possano notare non soltanto nei fanciulli che ancora non hanno conoscenza del bene e del male, ma anche nei bambini più piccoli, ancora lattanti, nei quali non vi è traccia di volutà e che tuttavia manifestano nella carne il moto naturale. Allo stesso modo si può osservare nei bambini anche il pungolo dell'ira, quando li vediamo eccitati contro chi li ha rattristati. Questo non lo dico quasi per accusare la natura di essere causa del peccato, non sia mai. Lo dico invece per dimostrare come l'ira e la concupiscenza che il creatore aveva unite all'uomo per il bene sembrano in qualche modo in forza della negligenza finire in ciò che contro la natura, proprio partendo da ciò che fa semplicemente parte della natura del corpo. Il moto del corpo, infatti, era stato dato dal creatore non per la fornicazione, ma per la generazione di figli e per la sopravvivenza della specie. E il moto dell'ira era stato seminato in noi per la salvezza, perché cioè lo esercitassimo contro la malvacità, non per imbestialire contro chi è della stessa nostra stirpe. Non è dunque peccatrice la natura anche se noi facciamo un cattivo uso di queste potenze e neppure accuseremo chi ci ha plasmati, come non si può accusare chi ha dato il ferro per usi necessari e vantaggiosi, se poi chi lo prende se ne serve per uccidere. Abbiamo detto questo perché vogliamo mostrare come la passione dell'amore per il denaro non prenda pretesto da moventi naturali, ma soltanto da una volontà pessima e corrotta. Questo male, quando trova l'anima tiepida e incredula al principio del suo distacco dal mondo, le suggerisce certi pretesti apparentemente ragionevoli per trattenere qualcosa di ciò che possiede. fa immaginare al monaco una vecchia lunga e malanni fisici e gli fa immaginare che ciò che il cenobio potrà offrirli non sarà sufficiente a dare qualche conforto, non dico a chi è malato, ma nemmeno a chi è sano, e che non vi si può ottenere nessuna di quelle cure che è giusto dare ai malati, ma al contrario, incuria totale che, se qualcuno non avrà messo da parte qualche soldo, là muore da miserabile. Infine suggerisce che neppure è possibile rimanere a lungo nel monastero a motivo della pesandezza di lavori e della severità del padre e allora quando con questi pensieri in male avrà sedotto la mente per farle trattenere almeno un denaro, a quel punto persuade il monaco anche a imparare di nascosto dall'abate un lavoro manuale col quale potrà aumentare il denaro per cui si affanna e infine con oscure speranze sviero sventurato facendolo pensare a un guadagno proveniente dal suo lavoro e al suo lievo e alla sicurezza che ne deriva e così dopo essersi dato tutto intero al pensiero del guadagno non bada a nulla di tutto quello che è sbagliato non alla follia dell'ira quando avviene che egli vi incappi per qualche danno che subisce né alla tenebra della tristezza in cui cade se gli viene meno la speranza di un guadagno come per altri il ventre è Dio così l'oro è Dio per costui perciò il beato apostolo, conoscendo tutto ciò ha chiamato questa passione non soltanto la radice di tutti i mali ma anche idolatria consideriamo dunque quale malizia questo male trascini l'uomo se lo getta persino nell'idolatria infatti chi ama il denaro ha distolto il suo intelletto dall'amor di Dio e l'ha riposto negli idoli dell'uomo scolpiti nel loro da questi pensieri il monaco viene ottenebrato va sempre peggio e non può più essere nell'ubbedienza al contrario si irrita si indigna contro ciò che gli pare di non meritare mormora per ogni lavoro contraddice e poiché ormai non osserve più alcun senso di rispetto si muove come un cavallo selvaggio più per precipizi e neppure si è contenta del cibo quotidiano assicura anzi di non poterlo più sopportare dice che Dio non è solo lì che la sua salvezza non è chiusa lì e che se non se ne va da quel monastero si perde e così avendo come collaboratore di questi pensieri corrotti il denaro che ha custodito e da questo reso reggero come da Ali comincia a pensare di uscire dal monastero infine con superbia sprezza verso ciò che ha professato si separa e considerandosi come uno straniero un forestiero se vede nel monastero qualcosa che ha bisogno di essere corretto lo trascura lo disprezza e ha da dire su tutto ciò che si fa poi va in cerca di qualche pretesto per andare in collera o rattristarsi in modo da non apparire una persona leggera che esce dal monastero senza motivo e se con insinuazioni e vaniloqui può ingannare qualcuno e farlo uscire dal monastero non indietreggia nemmeno di fronte a questo perché vuole associare qualcuno alla sua caduta così chiama il denaro acceso dal fuoco delle proprie ricchezze non potrà mai aver pace nel monastero né vivere sotto una regola e quando il demonio come un lupo lo rapisce dall'ovile dopo averlo separato da Grece lo prende pronto per essere divorato e allora lo spinge a fare in cella notte e giorno quei lavori che nel cenobio trascurava di fare alle ore stabilite e non gli permette di osservare né le preghiere abituali né la consuetudine del digiuno né i canoni delle veglie perché dopo averlo legato alla follia dell'amore per il denaro lo persuade a mettere tutto il suo zelo nel lavoro manuale tre sono le forme in cui si presenta questa malattia e tutte sono ugualmente proibite dalla sacra scrittura e dalle dottrine dei padri l'una induce questi miseri a possedere e accumulare ciò che non avevano neppure nel mondo l'altra fa sì che chi una volta per tutte aveva abbandonato le ricchezze si penta e gli suggerisce di cercare di riavere ciò che aveva offerto Dio la terza poi dopo aver fin dal principio legato il monaco con la mancanza di fede e la tiepidezza non gli permette di disfarsi del tutto delle cose del mondo gli insinua il timore della fame e la mancanza di fede nella provvidenza e gli fa trasgredire le promesse fatte quando ha lasciato il mondo di queste tre forme del male troviamo gli esempi come si è detto già condannati nella sacra scrittura Ghecazzi per esempio volendo acquistarsi ricchezze che prima non aveva perdette la grazia profetica che il maestro voleva lasciarli in eredità anzi in luogo di benedizione ereditò una lepra perpetua in forza della maledizione del profeta e Giuda volendo ottenere quel denaro che in un primo tempo aveva rigettato per seguire il Cristo non solo decade dal coro degli apostoli per aver finito col tradire il Signore ma distrusse la sua stessa vita fisica con una morte violenta Anania e Safira per aver serbato qualcosa di ciò che possedevano sono puniti con la morte per sentenza apostolica e il grande Mosè del Deo Torrenomio misticamente esorta quelli che promettono di lasciare il mondo e che per il timore infuso della mancanza di fede stanno adaccate le cose terrene se qualcuno è timoroso e ha la paura nel cuore vada e ritorni la sua casa perché non induca al timore il cuore dei suoi fratelli Deo Torrenomio 28 Vi è qualcosa di più sicuro e chiaro di questa testimonianza non impareremo dunque da queste cose noi che abbiamo lasciato il mondo a rinunciare perfettamente a tutto e così uscire in battaglia anziché dopo aver posto un principio molle già acquasto distogliere gli altri dalla perfezione evangelica a indurgli alla paura vi sono infatti certuni che interpretano male ciò che la scrittura dice bene è più beato dare che ricevere atti 20 35 e si sforzano di alterare il senso di ciò che viene detto ingannando se stessi e seguendo la propria passione per il denaro lo stesso lo stesso fanno con l'insegnamento del Signore se vuoi essere perfetto va vendi ciò che possiedi dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli poi vieni seguimi ritengono infatti che più beato della povertà si disporre della propria ricchezza e attingere questa sovrabbondanza per dare ai bisognosi sappiano costoro che non si sono ancora allontanati dal mondo né sono entrati nella perfezione monastica finché si vergognano di assumersi per Cristo la povertà dell'Apostolo servento a se stessi e bisognosi con il lavoro delle proprie mani Atti 20 34 per portare a compimento con i fatti la professione monastica di essere glorificati con l'Apostolo dopo aver disperso la vecchia ricchezza combattano con Paolo la buona battaglia nella fame e nella sete nel freddo e nella nudità secondo Corinti 11 27 l'Apostolo stesso infatti se avesse saputo che il tenersi l'antica ricchezza più necessario per la perfezione non avrebbe certo disprezzato la propria dignità dato che dice di essere per nascita di condizione distinta e cittadinanza romana e quella gente di Gerusalemme che vendeva le proprie case e i propri campi e ne deponeva il prezzo ai piedi degli Apostoli non lo avrebbero fatto se avesse saputo che gli Apostoli ritenevano cosa più felice nutrirsi con le proprie ricchezze anziché con la propria fatica o con l'offerta dei gentili ma lo stesso Apostolo insegna ben chiaramente a proposito di costoro quando scrivendo ai Romani dice ora vado a Gerusalemme per rendere servizio ai Santi perché così è piaciuto a quelli di Macedonia e di Acaia e anche sono loro debitori Romani 15 25 27 ed è gli stesso più volte sottoposto a catene e prigioni alla molestia dei viaggi e da questo impedito come ovvio di provvedere a se stesso con le proprie mani ci insegna come in questa necessità egli si è stato soccorso dai fratelli venuti a lui dalla Macedonia dice e infatti ai mio bisogno hanno supplito i fratelli venuti dalla Macedonia secondo Corinti 11 9 e ai filippesi scrive lo sapete anche voi o filippesi che alla mia uscita dalla Macedonia nessuna chiesa ha avuto a che fare con me in materia di dare e avere se non voi soltanto perché anche a Tessalonica e una e due volte mi avete mandato ciò di cui avevo bisogno dunque a giudizio di chi ama il denaro costoro saranno più beati anche dell'apostolo poiché hanno provveduto alle sue necessità con le proprie sostanze nessuno però sarà arrivato un tale estremo di follia da usare di riquesto se dunque vogliamo seguire il comandamento evangelico e tutta quella chiesa che fin dal principio è suo fondamento negli apostoli non daremo retta alle nostre idee personali e neppure intenderemo malamente ciò che è detto bene ricettiamo piuttosto il nostro sentimento tiepito e incredulo e accogliamo il vancelo nel suo rigore perché è così che potremo seguire le orme dei santi patri e mai venire meno la disciplina cenobitica solo così potremo rinunciare veramente a questo mondo è buona cosa dunque anche in questo caso ricordare la parola di un santo si riferisce di San Basilio vescovo di Cesarea di Capadoccia la seguente parola che egli avrebbe rivolta a un senatore che aveva rinunciato al mondo ma con tiepidezza e che tratteneva ancora qualcosa delle proprie ricchezze hai distrutto il senatore e non hai fatto il monaco è un detto riportato nelle vite dei padri del deserto bisogna dunque che poniamo ogni zelo nel recidere dalla nostra anima la radice di tutti i mali che è l'amore per il denaro perché sappiamo con tutta certezza che se permane la radice i rami spuntano senza difficoltà non è facile realizzare questa virtù se non rimaniamo nel cenobio in esso infatti noi siamo senza pensiero per le stesse esigenze più assolute se teniamo sotto gli occhi la condanna di Anania e Safira tremiamo al pensiero di tenere da parte per noi qualcosa di ciò che un tempo possedavamo allo stesso modo presi da timore di fronte all'esempio di ghecazzi dato in preda a una lepera perpetua per il suo amore e il denaro guardiamoci dall'accumulare ricchezze che neppure nel mondo avevamo e ancora pensando a Giuda che finisce impiccato temiamo di riprenderci di nuovo ciò che con la nostra rinuncia avevamo disprezzato in tutto ciò dobbiamo continuamente avere sotto gli occhi l'incerto momento della morte perché il Signore nostro non giunga in un'ora che non ci aspettiamo e trovi la nostra coscienza macchiata dall'amore per il denaro ci dirà allora ciò che nel Vangelo è stato detto al ricco stolto questa notte stessa ti verrà richiesta la tua anima e ciò che hai preparato per chi sarà grazie a tutti grazie a tutti